Maxi operazione antidroga della DDA di Milano, anche la provincia di Campobasso coinvolta nelle indagini. Ennesima odissea per i pendolari molisani alle prese con i disservizi ferroviari di Trenitalia. Record di presenza ad Agnone per la tradizionale indocciata, c'era anche il ministro della Cultura San Giuliano. Orrore a Boiano, gattino ritrovato impiccato ad un cancello di una casa privata. Ha aperto stamane la biblioteca comunale di Venafro, Ricci, riconsegnato alla città un presidio di cultura. Salve, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. Vediamo le notizie di questa sera dalla nostra regione. A partire dalla cronaca, sono stati momenti di apprezzione a Campobasso per un uomo che ha minacciato di gettarsi dal passaggio pedonale sopraelevato del terminal bus. Fortunatamente la vicenda si è conclusa positivamente. Sentiamo Carla Marino. Momenti di apprezzione nel pomeriggio a Campobasso, nel passaggio sopraelevato del terminal bus. Un uomo ha infatti minacciato di lanciarsi nel vuoto nel tratto del passaggio pedonale ricadente su via Vico. Si tratta di un residente del capoluogo di regione che ha poi ripercorso i motivi che lo hanno spinto a salire sul sovrappasso, da lui indicati in alcune vicissitudini giudiziarie. Mentre si trovava sul cavalcavia pedonale, ha anche pubblicato un video in diretta sul proprio profilo Facebook, affidando così il proprio sfogo anche ai social network. A notare ciò che stava avvenendo, il proprietario del bar situato all'interno della stazione degli autobus e i passanti che in quel momento si trovavano nella zona. Ed è stato il titolare dell'attività commerciale a contattare le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati sia la polizia che i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e a un'ambulanza. Si è così da un lato provveduto a mettere l'area in sicurezza e dall'altro operato per convincere l'uomo a desistere. Una situazione che ha tenuto col fiato sospeso numerose persone che nel frattempo si erano radunate nelle vicinanze del luogo in cui si stavano svolgendo i fatti. La vicenda per fortuna si è conclusa positivamente. Alla fine infatti il Campo Bassano ha deciso di accantonare la volontà di lanciarsi nel vuoto ed è sceso sano e salvo dal passaggio sopraelevato. Enesima odissea per i pendolari molisani alle prese con i disservizi ferroviari di Trenitalia. Questa mattina l'autobus sostitutivo del treno Campo Basso Roma che doveva partire alle 6.30 dal piazzale antistante alla stazione del capoluogo di Regione non è arrivato. Ci dice tutto Cristian Ciarlante. Enesima odissea per i pendolari molisani che hanno la sfortuna di avere a che fare con Trenitalia. Questa mattina l'autobus sostitutivo del treno Campo Basso Roma che doveva partire alle 6.30 dal piazzale antistante alla stazione del capoluogo di Regione non è arrivato. Ovviamente non è dato sapere cosa abbia provocato questo ennesimo disservizio un episodio senza dubbio spiacevole specialmente per chi resta a terra ed è costretto a trovare mezzi alternativi per raggiungere la capitale. Qualcuno ha chiamato anche i carabinieri per denunciare l'interruzione di pubblico servizio. Alle 7.20 infine, con circa un'ora di ritardo è arrivato l'autobus sostitutivo dell'autobus non arrivato una situazione al limite del grottesco degna di un film di fantozzi. Organizza finte compravendite internazionali di auto per girare il fisco indagato dalla Procura di Campobasso un rivenditore molisano che avrebbe gestito una compravendita di auto tra una società italiana e altre due con sede all'estero Polonia e Bulgaria nello specifico attraverso falsa documentazione per evitare di pagare l'IVA per questo motivo la Procura di Campobasso ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per un equivalente pari a 270.000 euro Tocca anche Campobasso la maxi operazione antidroga coordinata dalla DDA di Milano che vede indagate 121 persone in diverse zone di Italia tra le organizzazioni coinvolte una italiana, una albanese e una marocchina C'è anche Campobasso tra le 12 province italiane finite al centro di una maxi inchiesta contro lo spaccio di droga portata avanti dalla DDA di Milano risiedono nel capoluogo di regione infatti alcune delle 121 persone che si sono viste notificare l'avviso di conclusione delle indagini emesso dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano oltre alla cittadina molisana gli altri territori coinvolti sono quelli di Milano, Varese, Pavia Monza, Brianza, Lodi, Lecco, Bergamo Caserta, Genova, Piacenza e Vicenza le accuse contestate agli indagati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina, hashish e marihuana oltre alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale alla detenzione illegale di armi al favoreggiamento al trasferimento fraudolento di valori e al sequestro di persona a scopo di estorsione secondo la DDA tre diverse organizzazioni una italiana, una albanese e l'altra marocchina si sarebbero contese le piazze di spaccio facendo ricorso alle armi da fuoco per imporsi e per riscuotere i proventi illeciti e non esitando a sequestrare affiliati delle organizzazioni collegate in caso di ritardi nei pagamenti la maxi operazione ha portato anche all'arresto in flagranza di 22 persone oltre al sequestro complessivo di 28,5 chili di droga tra eroina, cocaina, hashish e marihuana più 7 chili di sostanza da taglio due pistole, 147 cartucce e 196.295 euro in contanti Orrore a Boiano dove un gatto di nome Gonzalo è stato ritrovato impiccato al cancello di una casa i proprietari dell'animale hanno sporto denuncia contro ignoti e carabinieri Orrore a Boiano dove un gatto di nome Gonzalo è stato ritrovato impiccato dai proprietari ad un cancello di una casa privata in una zona centrale del paese i proprietari del gatto hanno denunciato tutto sui social e a breve presenteranno una denuncia contro ignoti presso la stazione locale dei carabinieri se le impedi social lanciano un appello affinché chi ha visto parli ci chiediamo affermano Roberto Ivana i proprietari del piccolo Gonzalo come sia possibile commettere un atto così atroce così brutale e disumano nei confronti di un piccolo animale indifeso Roberto e Ivana vogliono andare fino in fondo a questa storia per individuare il responsabile di questo gesto disumano Furto aggravato e commercializzazione illegale di legna da ardere denunciato a piede libero dai carabinieri forestali del nucleo di Frosolone un impresario boschivo Furto aggravato e commercializzazione illegale di legna da ardere sono le ipotesi di reato a carico di un impresario boschivo denunciato a piede libero dai carabinieri forestali del nucleo di Frosolone l'attività di indagine avviata diversi mesi fa ha riguardato un bosco di querce di proprietà privata sito in agro di Cittanova del Sagno tagliato all'insaputa del proprietario che, appreso il fatto ha subito esporto la querela ai carabinieri forestali chiedendo espressamente la punizione dell'autore il quale dovrà pagare anche una multa perché l'utilizzazione boschiva è stata effettuata in periodo di chiusura e di vieto i 200 quintali di legna da ardere ricavata dal furto sono stati sottoposti a sequestro chiusa dalla scorsa primavera da stamani ha riaperto i battenti la biblioteca comunale di Venafro il sindaco Ricci ha detto è stato riconsegnato alla città un presidio di cultura sentiamo Domenico Marzocchella un luogo di cultura certo ma anche di aggregazione sociale dopo uno stop forzato di circa sei mesi riapre oggi la biblioteca comunale di Venafro il pensionamento del bibliotecario aveva portato alla chiusura della De Bellis Morrapilla programmato dal comune un concorso per l'assunzione in pianta stabile del nuovo responsabile intanto allo scopo di tornare a garantire il servizio il testimone passa temporaneamente ai volontari del circolo Sannicandro gli unici a rispondere all'appello dell'amministrazione ma questo spiega il sindaco Ricci ai nostri microfoni è solo il primo passo nell'ambito del complessivo rilancio della struttura noi nei prossimi mesi miglioreremo la dotazione tecnologica grazie ad un finanziamento che abbiamo avuto con la precedente amministrazione nel 2022 e che nei prossimi mesi sarà attuato rete diffusa di centri culturali allo stesso modo stiamo per approvare il progetto che completerà la ristrutturazione di questo stabile ovviamente poi dovremo reperire le risorse per realizzare i lavori però stiamo in una programmazione rispetto alla quale l'aria apertura di oggi è un tassello importante possiamo dire che il 2024 è davvero l'anno in cui la biblioteca partendo dalla riapertura di oggi verrà ulteriormente rilanciata come luogo di cultura luogo di scambio di idee luogo di aggregazione il tempo che noi mettiamo a disposizione è un tempo che è un dono ed è in questo tempo è il dono di presidi di scuola professori, docenti direttori di banca e casalinghe e non mi si venga a dire che ci vuole chissà che per arrivare alla cultura no, alla cultura ci si arriva in ogni modo possibile e lungo il percorso dell'arricchimento culturale evocato dalla preside Scarabbeo la biblioteca ora riaperta torna a proporsi come uno snodo cruciale edizione da record per l'andocciata di Agnone boom di turisti presente anche il ministro della cultura Genaro San Giuliano intervistato da Carla Marino che ha seguito l'evento che andrà in onda con uno speciale intanto però vediamo il servizio iniziano a prendere posizione gli indocciatori per l'edizione 2023 del primo sabato di dicembre della tradizionale indocciata di Agnone un rito che si ripete da secoli e che la cittadina alto molisana ha saputo non solo tramandare ma anche valorizzare indocciatori da quanti anni? manderanno proprio piccoli rituali che si trasmettono di generazione in generazione e che richiedono un sapere delle tappe precise gruppo di partecipanti storici che si occupa proprio della realizzazione dell'andoccia del taglio proprio dell'abete bianco della zona e realizzano il classico listello che poi va composto insieme alle ginestre per realizzare l'andoccia per gli agnonesi infatti partecipare all'evento rappresenta un appuntamento irrinunciabile è un onore diciamo per noi agnonesi è un onore perché siamo nati con questa andocciata per noi portare il standard per noi è una cosa che vogliamo lasciare i nipoti vogliamo lasciare qualcosa di bello perciò abbiamo tanti bambini qui dietro per imparare un collante tra le generazioni anche i più piccoli infatti vengono coinvolti in questa tradizione Ivan per il primo anno porterai l'andoccia accesa sei emozionato? si dai un po' emozionato ci sono un'edizione da record quella che si è appena conclusa nell'Atene del Sannio non solo sul fronte dei protagonisti del corteo ma anche su quello del numero degli spettatori come sottolineato dal sindaco Daniele Saia tra figuranti e portatori di 500 persone persone circa siamo davvero molto contenti sia per la bellissima serata sia per l'affluenza di pubblico che credo sia davvero un'affluenza record c'è stata un'affluenza di turisti in questi giorni che davvero ci ha sorpreso piacevolmente non solo portatori di indocce ma anche figuranti che hanno portato in scena i costumi e gli usi della vita contadina e artigiana di una volta l'andocciata 2023 tra l'altro ha visto presente ad Agnone anche il ministro della cultura Gennaro San Giuliano è una grande festa è una grande tradizione questo momento evoca una storia illustre di questa città che è ricca di valori e io sono felice di essere qua e vogliamo lavorare per valorizzare questo territorio faremo tante cose e ora le notizie sportive con i risultati e classifiche aggiornate dei campionati molisani partendo dalla serie D nel servizio di Michele Visco Gentili telespettatori bentornati al nostro consueto approfondimento sportivo di inizio settimana sportivamente fresh partiamo come sempre col servizio realizzato dalla nostra redazione di Campobasso sulla gara dei lupi che hanno ottenuto un'importantissima vittoria fuori casa con Notaresco per 0-1 hanno conquistato la vetta della classifica sono tre punti d'oro quelli conquistati dal Campobasso in trasferta contro il Notaresco la partita si mette subito bene per il Rosso Blu con un rigore generoso fischiato su Bonacchi dal dischetto però mal donato calcia sul palo i Rosso Blu sono bravi a trovare il gol del vantaggio nella seconda frazione di gioco tiro cross di Pacillo Grandis corregge in rete e nei pressi della linea è il primo gol del centrocampista argentino arrivato nel capologo regionale solo due settimane fa il Campobasso raggiunge in testa la Stambenettese adesso per i lupi il big match di domenica contro il Chieti all'Avicor Stadium a fine gara le interviste dei protagonisti del match questo è un campo è una squadra allenata bene una squadra di ragazzi interessanti tecnicamente bravi noi abbiamo fatto un'ottima partita oggi abbiamo fatto una partita vera come piace a me non ci siamo abbattuti dopo le prime azioni avuti al rigore sbagliato quindi devo complimentarmi con la squadra sono molto molto contento di aver fatto questo primo gol con questa maglietta così importante in una partita così combattuta e niente ha servito per portare i tre punti a casa e sono molto contento ma soprattutto dalle apprezzazioni che abbiamo fatto dal gruppo bene pregherei la regia di partire con le schermate partiamo dalla serie di Girone F le gare disputate per quanto riguarda la quindicesima giornata sono le seguenti Alma Juventus Fano Sora Calcio 0-0 Avezzano Calcio Tivoli Calcio 1-0 Calcio Termoli Football Club Matese 0-0 Chieti Real Monte Rotondo 2-1 Fossombrone Roma City Football Club 0-0 Notaresco Campobasso 0-1 San Benedettese Atletico Ascoli 2-2 United Riccione L'Aquila 0-1 Vasto Girardi Vigor Senigaglia 0-3 uno sguardo alla classifica del campionato di serie di Girone F guidano San Benedettese Campobasso a 30 punti segue l'Avezzano Calcio 28 Chieti L'Aquila 27 Roma City Football Club 24 Vigor Senigaglia 23 Fossombrone 23 Notaresco 23 United Riccione 18 Sora Calcio 18 Vasto Girardi 15 Atletico Ascoli 14 Calcio Termoli 1920 13 Alma Juventus Fano e Football Club Matese Tivoli Calcio Real Monte Rotondo 13 Passiamo al campionato regionale di eccellenza Molisana Siamo giunti alla quattordicesima giornata Le gare Castel di Sangro Ceppe Calcio Virtus Gioiese 1-0 Criternina Campomarino 2-3 Difesa Grande Termo Riposi Sportiva Fortore 0-0 Ripa Limosani Venafro 0-0 Sesto Campano Calcio Aurora Alto Casertano 0-0 San Pietro In Valle Boiano 1-2 Città di Isernia Olimpia Ionese 6-0 Con questa vittoria Città di Isernia approfittando del pariggio dell'Aurora Alto Casertano Torna in vetta alla classifica Turris Real Guglionesi 0-0 Ecco la classifica Città di Isernia 38 Aurora Alto Casertano 37 Castellisangro 26 Real Guglionesi 23 Sesto Campano Calcio 23 Venafro 22 Ripa Limosani 21 Polisportiva Fortore 20 Turris 16 Boiano Calcio Virtus Gioiese 13 Campomarino Limpia Ionese 12 Atletico San Pietro In Valle Difesa Grande Termo Di 11 Cliternina 9 punti La promozione Giornata numero 14 Baranello Polisportiva Calena 3-1 Polisportiva M Juvenes Trivento 4-0 Roccaravindolo Bois Faerano 2-0 Locomuti Riccia Real Prata 3-5 Altilas Animo Forlum 0-3 Morcone Calcio Calcio Montenero 0-3 Spinita Atletico Torre Maggiore 0-2 Chaminade Isena Fraterna 1-0 La classifica del campionato regionale di promozione Guida il Calcio Montenero 32 punti Isena Fraterna 30 Baranello 30 Atletico Torre Maggiore 29 Bois Faerano 28 Locomuti Riccia 26 Trivento 24 Fotolum 22 Spinete 19 Roccaravindolo 19 Podisportiva M Juveness 18 Real Prata 16 Chaminade 13 Morcone Calcio 8 Podisportiva Calen 8 Altilas Agni 1-0 Chiudiamo come al solito col campionato regionale di prima categoria in girone la giornata è la numero 12 Campobasso Calcio San Giovanni Galdo 3-1 Pozzili Domenico Desisto Sospesa Audax Pietremelare Volturnia Calcio 1-0 Alafidelis Carpinone Calcio 2-1 Alife Gioventù Machiacodonese 6-0 Attele Cimignano Mirabello Calcio 4-3 Tamaro Sant'Angelo Limosano 0-4 Dufe Presenzano Arribosato Chiudiamo con la classifica Alife 33 Sant'Angelo Limosano 31 Dufe Presenzano 28 Domenico Desisto 24 Alafidelis 22 Pozzilli 20 Attele Cimignano Carpinone Calcio 17 Audax Pietremelare Calcio e Tammaro e Gioventù Machiacodonese chiudono la classifica a tre punti Bene gentili dei spettatori vi ringraziamo per averci seguito nel nostro approfondimento sportivo di inizio settimana vi salutiamo e come al solito vediamo appuntamento con la nuova puntata di venerdì 15 dicembre di Sportivamente Siamo al touch screen per vedere quali sono le ultime notizie nazionali ed estere andiamo su SkyTG24 che ci aggiorna sulla guerra tra Israele e Gaza Italia Germania e Francia l'UE hanno chiesto sanzioni per Hamas i ministri degli esteri dei tre stati si dicono favorevoli alla proposta di Borrell di creare un regime sanzionatorio contro i dirigenti di Hamas in solidarietà ad Israele e per contrastare le operazioni terroristiche del gruppo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha programmato per domani una riunione di emergenza per votare una bozza di risoluzione che chiede un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza in Cisgiordania Sciopero Meloni che dice preoccupa l'antisemitismo che cresce ancora notizie dall'estero su ADN Kronos si parla della COP28 niente uscita da energie fossili bozza finale fa infuriare tutti in una precedente versione l'uscita graduale era ancora menzionata come una delle possibili opzioni andiamo su ADN Kronos abbiamo problemi con la pagina di ADN Kronos andiamo su Lanza sceglie di aprire sul Fotoanza 2023 Meloni vedo spiragli per una soluzione sul patto di stabilità la premier lo ha detto alla presentazione del libro fotografico dell'agenzia e poi Tgcom24 per la cronaca arrestato pesarese condannato per stupro era evasso dai domiciliari l'uomo stava scontando le due condanne per stupro a sei anni e a quattro anni e quattro mesi confermate in appello nella casa della madre nelle Marche e questo aggiornamento chiude la nostra lezione noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito e ora linea all'Aquila per le notizie dell'Abruzzo Grazie a tutti